Stasera dopo lo spettacolo delle montane che si trovava nel parco Unieri ci siamo fatti quattro ristoranti tipici, tutti avevano chiuso, comunque forse avevano pochi clienti e insomma comunque a noi erano chiusi e siamo capitati in questo che sembra essere un ristorante greco credo. Abbiamo preso una grigliata mista e almeno due birre che hanno dovuto essere tipiche di qua. Assaggiamo sti mici! Buonissime! Questa sassettina! Sti mici sono proprio buoni! Buonissime! Questa sassicciotta! Ma fattano! Guarda qua! Aveva appaggato! Sono succose! è buono dite quello che volete il nostro posto è top number one è rimasto da assaggiare il maiale è una parata questo è buonissimo